Diccio, primo santo, forse forte bene, Angelina Berlikova, Russia. Angelina è arrivata a questa finale con un punteggio di quattordici e duecento e venticinque. Un due saldino al valore di altezza di 5.14 e 5.12. Un due saldino al valore di altezza di 5.14 e 5.12. 9.05, 14.45. I ben Nicola che è stata assinetta con un punteggio. Unuresco per il secondo saldino. Grazie a tutti.